In diretta da Pineto con Pasquale Parmigiani, responsabile tecnico del meeting, si terrà dal 18 al 21 giugno, facciamo un po' il punto della situazione? Sì, diciamo che comunque stiamo lavorando abbastanza lacrimente per quanto riguarda organizzare i percorsi, li abbiamo già studiati, sono diciamo sulla carta, sono fatti, adesso bisogna metterci qualcosa in più per farli diventare spettacolari. Vogliamo dare qualche piccola anticipazione senza svelare poi quale sarà l'itinerario dei percorsi, in modo anche da incuriosire quelli che saranno i ragazzi che verranno qui a partecipare a questa grande manifestazione? Sicuramente siamo a Pineto, a Pineto c'è il mare, perciò sicuramente qualcosa faremo vicino, molto vicino al mare. Da un punto di vista invece turistico c'è stata già una discreta risposta per quello che riguarda le prenotazioni negli alberghi, questo è quello che è dato sapere al momento, non ancora partono ufficialmente le prenotazioni delle varie società, un primo feedback da questo punto di vista positivo oppure no? Sicuramente sì, io spero e comunque sono sicuro che la partecipazione essendo al Centro d'Italia sarà abbastanza numerosa e noi come organizzazione ci lasciamo mettendo tutto per accogliere i nostri amici ospiti, perché comunque sono quasi tutti amici perché ci conosciamo e ci vediamo sempre durante le gare nelle strade, nelle varie regioni, perciò ci teniamo ad ospitare a casa nostra i nostri amici il meglio possibile. Allora ci vediamo a Pineto, appuntamento a tutti a questo attesissimo meeting. Noi vi aspettiamo, noi già ci siamo a Pineto, perciò anche se qualche giorno è uggioso, però qualche giorno c'è anche il sole, perciò stiamo lavorando per accogliervi con tanto tanto sole.